Mi piace pensare a queste sezioni staccate come a uno sportello amico della Capitaneria di Porto in maniera tale che tutta l'utenza di portistica, balneare o gli operatori della pesca abbia un'esigenza da soddisfare sotto il profilo tecnico-amministrativo, anche operativo, con i nostri uffici, possa trovare la risposta alle proprie esigenze e ai propri bisogni. Sono queste le parole del comandante Maurizio Trogu dopo l'inaugurazione degli uffici marittimi di Policastro e Capitello nuove sedi distaccate della Capitaneria di Porto di Palinuro, soddisfatti i sindaci del territorio che hanno ritenuto importante l'istituzione di un servizio a protezione dell'ambiente marino. Sindaco, che cosa significa per la cittadina di Policastro una sede della Capitaneria di Porto? È un presidio importante, voluto dall'amministrazione, visto che il Porto di Policastro da due o tre anni vede la presenza di parecchie imbarcazioni da di Porto, quindi sta diventando un ruolo comprensoriale come Porto. Quindi è importante anche un presidio di un'autorità di controllo in collaborazione con l'amministrazione, un coordinamento tra le varie istituzioni per garantire una sicurezza e una friabilità migliore del Porto di Policastro. Sono soddisfattissimi perché un presidio di sicurezza e di legalità rappresenta un fiore all'occhiello, sicuramente una marcia in più per Policastro, per il Porto, per le attività del mare in generale. Quindi rivolgiamo un grosso in bocca al lupo alla Capitaneria, un applauso all'amministrazione perché questi sono i servizi di cui il Paese ha bisogno. Signaco, noi ci troviamo all'interno degli uffici, qui leggiamo una targa Delegazione di Spiaggia a Capitello. Tenga conto che Capitello ha avuto un ruolo importante, questa è la targa delle Delegazioni di Spiaggia e ce n'era un'altra ancora più grande, per dire che Capitello nel passato ha avuto un ruolo importante, non solo in questo specifico settore della pubblica amministrazione ma anche in altri settori e quindi rinverdiamo il ruolo di Capitello all'interno del Golfo di Policastro e del Comune di Spiaggia. Al momento dunque del Golfo di Policastro solo la cittadina rivierasca di Scario non ha una sede della Capitaneria di Porto. Scario purtroppo l'anno scorso per la spending review è stato chiuso l'ufficio. Noi stiamo cercando in tutti i modi di trovare una soluzione perché Scario comunque è un porto importante, c'è un'intensa attività di pesca, non può essere lasciato al di fuori dal controllo del territorio. Grazie a tutti.